Eh buona, è buona, è buona, buona. La sua presenza al compleanno di Edoardo riflette il forte legame familiare che caratterizza i Ferragni. Questo gesto ha creato ricordi speciali e ha rafforzato ancora di più i legami affettivi. La famiglia Ferragni è sempre stata unita e solidale. E Marina si inserisce perfettamente in questo contesto, dimostrando affetto e supporto. Il suo impegno nel trovare il tempo per la famiglia, nonostante gli impegni professionali, è un esempio di dedizione e amore. Marina Di Guardo, nota come nonna Ferragni, ci ricorda l'importanza di dare priorità alla famiglia. Il suo gesto di partecipare al compleanno di Edoardo è un segno di amore, e un messaggio che ispira a coltivare i legami familiari, in un mondo sempre più frenetico.